Siamo qui in questa base dell'Islanda e siamo venuti a visitare il nostro gruppo di volo che sta facendo difesa aerea, air polishing nella definizione NATO, a favore di quest'area del mondo dalle eventuali minacce e per far vedere la solidarietà dell'Alleanza Atlantica. Ed è anche questa base un punto importante per fare gli auguri di Pasqua a tutti i nostri impunitari impegnati a operazioni fuori e dentro il territorio nazionale per ringraziare la professionalità qui dei nostri piloti, dei nostri equipaggi di volo, della sicurezza, dei controllori radar, della guida caccia, ma la professionalità di tutti i nostri uomini e donne in uniformi a 360 gradi impegnati in operazioni. Un messaggio di grande professionalità che viene mandato, l'Islanda e l'Alleanza ringraziano l'Italia, l'Italia è pronta a fare il proprio dovere sul fronte alla sicurezza internazionale.